Musica E' appena finita la conferenza stampa di presentazione del nuovo mister della Rapido Latina Caccia 5 stagione 2013-2014 siamo qui con Luca Giampaolo, la nuova guida tecnica appunto del Latina con il proprio figlio qui presente è una responsabilità importante ma anche una grande sfida per lei Beh sì, sono a parte molto contento della presentazione che mi è stata fatta e di tante belle parole espresse quindi mi sento ancora più responsabilizzato, voglio fare bene ma a me è sempre piaciuto cercare di sviluppare il mio lavoro al massimo ce la metto tutta, ho creato questo sito per così provare a dare una mano al movimento del futsal i contatti mi stanno dando ragione, sono molto contento mi piace proprio applicarmi tutto il giorno al lavoro che faccio Ci vuol dire come è nato questo sudalizio? Chi ha fatto il primo passo e com'è andata? Ma diciamo che col presidente della Starza ci incontriamo da diversi anni di avversari c'è sempre stata grande stima reciproca il Latina rappresenta oggi una delle società serie del panorama nazionale il presidente pensa di me che sono un bravo allenatore quindi diciamo che il matrimonio si poteva fare io amo i palazzetti pieni, amo la gente che ci sostiene cerco di coinvolgere le persone in forma umana perché poi lo sport è bello vissuto in mezzo alle persone quindi sarà mio compito cercare attraverso i risultati, attraverso il gioco di provare proprio a riempire questo bellissimo palazzetto che mi sarà teatro di lavoro questa è una fase calda in cui molte squadre sono in cerca di atleti era giusto anche anticipare questa operazione crediamo di aver scelto un allenatore che abbia la giusta esperienza di questa categoria ha ottenuto sicuramente in questi ultimi anni sicuramente dei risultati importanti ma la grinta che piace a me quindi spero veramente di aver fatto la scelta giusta se ne sono convinto, momento particolarmente difficile dobbiamo cercare di avere un budget sostenibile di questi tempi dobbiamo superare la tempesta sperando che arrivino momenti migliori adesso siamo convinti comunque già da da nomi che abbiamo contattato di poter portare a Latina nomi importanti al tempo stesso hanno capito il momento attuale che possono anche venire incontro a quelle che sono le esigenze economiche delle società di futsal in questo momento ci saranno sicuramente cinque stranieri come si è stato nel passato e poi vedremo se ci sarà qualche ritorno oppure sugli italiani le conferme è in continua evoluzione questa fase perché veramente ogni giorno poi ci vengono proposti giocatori interessanti quindi dovremmo fare delle valutazioni e capire innanzitutto i ragazzi quelli che fanno attualmente parte della rosa che rimarranno perché credo che sia quello il punto di partenza e poi da lì decideremo le mosse future oggi è importante anche che la città di Latina capisca che questo è uno sport che forse andrebbe aiutato un po' di più e non lasciato da solo come purtroppo siamo per certi versi sentiamo un po' abbandonati perché sono pochi imprenditori che hanno deciso di sostenere questa avventura pochi ma buoni io anzi li ringrazio per quello che hanno fatto in questi anni spero che continueranno a sostenerci ovvio che se si aggiungeranno altri personaggi del mondo dell'imprenditoria che avranno la forza di sostenerci è evidente che potremmo anche ambire a questa benedetta da uno e onorandola al meglio grazie a tutti grazie a tutti